Il primo provvedimento interamente dedicato alla cultura dopo 30 anni. Così il ministro Brai ha definito il decreto legge contenente disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio delle attività culturali approvato il 2 agosto scorso dal governo. Un provvedimento fitto di importanti annunci, l'istituzione di una soprintendenza speciale per Pompei, l'assunzione a tempo determinato di 500 tirocinanti al Ministero dei Beni Culturali, l'importo del tax credit per l'industria cinematografica riportato a quota 90 milioni di euro, il salvataggio delle fondazioni liriche con il fondo a 75 milioni di euro e poi ancora i 14 milioni per interventi nei musei italiani, gli 8 milioni per gli uffizi di Firenze. Ossigeno puro per la cultura italiana è il segno di una strategia precisa, ribadita solo ieri dal ministro Brai che ha rilanciato «Lavoriamo per nuove assunzioni nel settore archeologi, archivisti, bibliotecari e ha rassicurato i dipendenti delle fondazioni liriche, nessuno resterà a casa». Ma dove troveranno i soldi? Si sono chiesti un po' tutti, qualcuno all'interno dello stesso governo. Per scoprire da dove arriverà almeno una parte delle risorse in realtà, basta leggere con attenzione il decreto nella versione del 7 agosto scorso, che porta impressi i sigilli della Ragioneria Generale dello Stato, dunque stato vagliato dai tecnici del Ministero dell'Economia. In attesa della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e ovviamente del passaggio parlamentare, è l'articolo 14 del decreto a spiegare da dove, per una grossa parte, verranno attinte le risorse. Ovvero da nuove accise sugli oli lubrificanti, parte integrante nella miscela di benzina e diesel, da cui si prevede di racimolare 13 milioni e mezzo di euro già nel 2014, e con un aumento di quelle che insistono sul consumo di birra e altre bevande o prodotti alcolici. L'aumento a decorrere dall'anno 2015 sarà 2,48 euro per ettolitro. Gli aumenti riguardano anche i prodotti alcolici intermedi, cioè aperitivi, vini aromatizzati o liquorosi, e una terza categoria, quella che comprende grappi e liquori. 50 milioni di euro per il restauro e la conservazione del paesaggio e dei beni culturali e archeologici dovranno arrivare anche dall'aumento della liquota di base dei tabacchi lavorati. Certo non è la prima volta che un governo decide di ricorrere alle tasse sui consumi per salvare la cultura. L'ultima, marzo 2011, è andata a finire così, con le critiche da destra alla scelta dell'allora governo Berlusconi di reintegrare il Fondo Unico per lo Spettacolo e di rendere permanente il tax credit in favore di chi investe nel cinema, il tutto finanziato dall'aumento delle accise sulla benzina. Adesso la polemica potrebbe riaccendersi con la fine della pausa estiva che tutto attutisce e l'arrivo del provvedimento nelle commissioni parlamentari. Il beveraggio alcolico si era salvato lo scorso anno dal decreto Balduzzi che in nome della salute aveva tentato di tassare birre e liquori. Adesso lo stesso tentativo viene fatto in funzione della cultura. I primi mugugni dei produttori cominciano a filtrare e anche all'interno dello stesso governo qualcuno osserva con sorpresa gli annunci del nuovo ministro ricordando che solo 20 giorni fa il Mibac ha ridotto il parco macchine delle varie soprintendenze alcune delle quali faticano a pagare persino le bollette. Tutti in attesa di scoprire la carta segreta capace di conciliare spending review e rilancio dei nostri beni culturali.